ciao a tutti e ben coperto con il livello 5s intanto ce ne ho a mettere anche il canale vocale giusto qua ok ok e andiamo avanti con l'eurotrack ogni volta che cambia il canale naturalmente che l'audio facilecca andiamo a vedere apri il mixer di basso non so se c'è perché ok ok quindi andiamo avanti come devo vedere l'eurotrack oggi mi sono compreso due o tre garage infatti come vedete i garage e gli ho i garage e gli ho i garage e gli ho non abbiamo un problema di garage quindi adesso lì devo andare ehm il garage mio no ora so ora so guarda si 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 se si 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 io farei si ci si bisogna prendere è una roba poco buona, cioè 200 rende una roba buona ma da non spendere molto il Sky non ho proprio niente, solamente questo è la 240 14, 93, Diceko, mercenzo allora Diceko non posso vedere di camion qui c'è già un volo ok ok se dovrei tirare un altro schiena è solo quello di 40 io non lo voglio schiena di 40 17 il chat facciamo quel tavolo qua è lo mesmo decente no ma forse non non qui vanno a qui st 120 euro, adesso io devo andare a vedere sempre il lavoro perché devo assumere le dipendenze Allora, fatto studion, questo è un autistico, allora fanno vedere, io ho un'arberga, io ho un'azurata la nuova Abbra un po' l'incompetenza Abbra un po' l'incompetenza Abbra un po' l'incompetenza non è che si c'è male E' un po' di più. ascolto e e e e questo autonomamente ma come faccio a gestire gestione garage e gestione garage e gestione garage bimbi sono in live io non lo so però sono in live quindi offre le parole no no vai tranquillo non so dove va a Brasile ok ciao ciao quindi vediamo un attivino ad andare avanti qua però io penso che per andare lì per andare lì quello è a posto quello l'abbiamo fatto ciao ciao sei? chi sei? ah sonia ciao sono in live lo dico per te sono in live quindi anzi se c'è che mi vuoi dare qualche suggerimento non fa mai male sonia sparita già no stavo facendo perchè oggi girando per la mappa mi sono preso altri due garage quindi adesso ho prendo altri due camionisti solo che loro lavorano autonomamente non gli devo dare io il lavoro questi non non hai bisogno di farci niente ah allora si gestiscono da soli beh adesso ho anche un po' di soldi magari potrei anche valutare di comprare un camion se vuoi se ci sei eh ecco però non in live perchè non hai dico a tutti i commenti no 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 vabbè io ho detto se ci sei adesso ma non in questo momento hai detto stasera se ci sei? ok ok dopo più tardi lo facciamo intanto per una venti minuti mezz'ora finiscono se qualcuno se qualcuno dei tuoi amici si si glielo l'ho già detto l'ho già accennato l'ho già accennato che siamo qua chi vuol venire soprattutto chi vuol venire e seguirci e a entrare con noi se giocate con Eurotrack perché non si può perché è solito perché qui ci sta bene le persone sono buone tranquilli poi dai io per esempio oggi ho fatto quasi 4.000 km quindi tranquilli bisogna fare nel 5.000 se fate come me che giocate con le 2-3 ore al giorno le fate in un giorno 5.000 quindi c'è un problema stavo guardando un po' di lavoro 2.000 km al mese sono 3 ore di gioco si più o meno 3 ore di gioco sai oggi in facoltà l'ho giocato 5 ore quasi sono fatto già adesso non ci ho guardato ancora sotto qui adesso non lo apro perché non lo faccio vedere però penso che siamo intorno ai 4.000 4.500 km allora potrei guardarci perché è nello schermo secondario quindi non si vede e c'è siamo attorno 4.2 4.3 vabbè niente adesso questi qui lavorano autonomamente infatti c'è abbiamo sboccato un bel po' della mappa scusate che è costotto questa volta non pensavo di aver te lo detto in un momento dove sono appena non ho chiesto no ma ho capito che ho capito che bisognava anche dargli la tappa perché t'avevo pur chiesto del fatto che e quanto guadagnavano loro se guadagnavano in base a quello che guadagno io cioè quello che vedo io dei viaggi o loro facendo i 90 guadagnano sì quella cifra lì più bella ti ricordi che ho fatto scaricare la mod? sì quella sì ecco se tu attiva quella mod insieme agli artisti prendono l'esperienza dei soliti ok no ma dopo quella lì oggi non non si vedeva non ho capito perché non si vedeva poi dopo sono andato a vedere ancora nel mod up e la sono andata a riscaricare alla quarta volta che l'ho riscaricata me l'ha fatta vedere e l'ho attivata quella del camion l'ho resciato l'anti collision sì quella adesso ce l'ho oggi ho avuto ah le altre due ce le ho sì sì comunque quella lì c'è però quando arrivi a un certo punto non ti rivedi più no no ma infatti un po' le ho cavate perché anche quella anche quell'altra la prima adesso diventano troppi dai avendo fatto 4-5 viaggi diventano veramente tanti ma basta che arrivi a pigliare il 36 sì 36 alla volta il primo viaggio sì 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 nel senso che nel senso che ci sono arrivati 36 ma ci sono arrivati già dal primo viaggio cioè il primo viaggio già ho fatto appunto che mi è arrivata comunque la mod lì mi è arrivato attorno ai 700 dopo l'ho staccato perché è per cento per cento non so come la calcolano non lo so comunque l'altro nel setecento lo cavate ce ne va per troppo quel colore hai dovuto fatto buttare quell'altro più grosso eh sì no lì c'è troppa roba va bene allora tanto che loro lavoro dite che hai capito il tuo motivo eh ma infatti io sempre sempre disponibile per imparare sì sì c'è una cosa il gioco nuovo quindi io io prendo su tutto quello che mi si insegna allora allora quelle le patate vorrei fare anche più fine sì sì ce le ho perché infatti quelle adesso le tengo le tengo lì e una cosa importante se metterà le altre note ricordate che queste le due le vanno per prima sì va bene perché vengono la priorità e l'alto e la città buono sta cosa sono cose che puoi scoprire anche in internet eh? sì sì lo so infatti hai detto da molte cose si possono imparare anche su youtube io se non pianta sta cosa che la terza volta che io metto il volume è una prova di dire in silenzio così il pubblico No, no, ma infatti è tranquillo anche perché devo trovare devo cercare di capire questa cosa che aspetta che non ti sento più, se parli un attimo perché tutte le volte non so perché in automatico ha un'intelligenza artificiale che la faccio saltare in aria mi cambia e decide di cambiarmi l'audio e quindi io non sento più cavolo perché me la mette nel monitor ma io monitor non ce la basso aspetta che devo trovare mamma mia, come devo fare con questa cosa ok ah ma l'ho messo qua adesso ti sento, da dispositivo in uscita autoparlante di aria tutte le volte mi va nel monitor secondario monitor secondario dispositivo di uscita autoparlante di aria però è in primario è un programma di intelligenza artificiale che intanto decide ha un'autonomia di cambiare i volumi così decide lui sta prendendo sopravvento anche sul computer che non è cosa buona come l'ho messo come l'ho messo lo calco ah ma così facevo anch'io no perché ah sì no tu crede ci facessi l'audio non ti volete ma l'altro io vi spesso mi scordò dall'inizio e poi comunque vuoi fare vuoi fare un viaggetto così neutro ci sono o stai facendo dei viaggi fai viaggio lungo come sempre con voglia di porto sì e l'ora stai parlando dell'audio delle cuffie che lo senti nella televisione e l'ora mod primaria sì poi basta non c'è una cosa stai parlando anch'io ho un'età che mi dimentico comunque ho visto che tu per la live si è quello stavi dicendo si è quello che stavi dicendo un'altra e la promozione quindi ti interessa ancora più in versione ci arrivo ci arrivo ma un attimo sai che vabbè adesso non è che ti sto a spiegare in live dopo te lo spiegherò ma ci arrivo a prendere tutto io ho un po' sì sì ma tanto io ho visto anche oggi ci guardavo mi sembra che io ho visto oggi ci dava un'occhiata così nel su adesso lo dico eh vabbè quest'ora della sera anch'io connetto su steam che con 40 euro ci dovrebbero prendere tutte mi sembra ho visto penso di sì perché io ho visto oggi ad oggi il prezzo di steam le da 39,90 da 6 mappe io penso che 6 mappe ci hanno quasi tutte più o meno ma cosa te la dovrebbe dare in automatico quanto cosa te la dovrebbe dare in automatico quanto prendi le altre più o meno perché so che c'è una mappa aggiuntiva che viene data quando prendi le altre l'ultima uscita ah l'ultima uscita ah perché so che prendendo il pacchetto completo ti danno una mappa in più costa? la mappa ti costa sì 17 euro vabbè 17 euro però andrò a fare anche il sito di 7.9 è uno spettacolo vabbè adesso domani domani o martedì così ci do una teatro sono un attimino più a casa anche da star dietro anche a quello allora se lo stai mettendo fuori fa tutta la mappa in me non c'è pericolo no no ma penso non c'è pericolo no no ma le prendo su steam perché sono sicuro che se ce l'ho me lo dice quindi me la togli brevi vuoi regalarla vuoi regalarla ok allora lavoro dipendente con tutti i lavori molto 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 con il livello che ho il problema è che adesso questo livello che ho purtroppo che sono andato un po' troppo su mi dà mappe veramente troppo 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 lunghe mappe troppo troppo lunghe come lavoro dipendente sì sì no infatti guardavo più lavoro guardavo lavoro dipendente per avere meno spese però lavoro autonomo sì vabbè a parte che paga guadagno di più sì ma forse sarà il livello ma quella che è più corta di quasi 2500 km adesso vado a vedere tra le ultime loro apporti giustamente guardo la mezza anch'io allora prendi ah ok lo faccio a costruire questo è distante per i soliti non ti interessano più sì non mi interessano più cioè te la sono più io devo prendere dopo il camion e tutto no no ho 319 dopo prendiamo il camion non mi dimentichiamo come mi dici te una cosa o un'altra quindi quelli lì dovrebbero bastare avanzare anche perché adesso i camion i camionisti guadagnano quindi allora se prendo un momento se non prendono poi ti danno una mano a prenderlo ah quindi io di loro non prendo niente no 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 vabbè però due camionisti nuovi tre garage c'è la banca si lo so non c'è la banca di prestito tocca ripagarli ancora le banche gratis non le conosco purtroppo questa cosa non la fanno non c'è la banca anche io con le banche lasciamo perdere perché un po' per il lavoro che faccio un po' per tutto ma quando c'hai quando c'hai degli elicotteri degli aerei non finisci più allora vabbè ma poi ce l'ho buona io devo fare queste piccolando devo fare una roba piccolina perché di verità oggi veramente ho fatto tanti chilometri allora vabbè quello è normale è normale è normale perché ti da praticamente tutto il mondo e di più con i traghetti con anche se non esiste non fatti ma anche da Messina ho visto oggi da Messina andare dalla parte di là a retta Calabria più o meno c'è il ponte dettaglio hanno fatto il ponte sullo stretto e non lo sapete ok e niente ragazzuoli adesso prendiamo il camion fra due minuti un attimo allora bene ragazzuoli dai già una quarantina di minuti di più anche stasera con la live quindi io ho visto che se no dopo le live più lunghe incominciano a calare le persone non è che mi piaccia molto fare la live con 15-20 persone quindi siamo un po' vi saluto per stasera dopo ci vediamo domani mattina probabilmente con la seconda live domani dalle 9 più o meno a 11 faccio la live ancora sempre qui su Eurotrack mi raccomando seguitemi mettete un piace al video se vi piace e mi raccomando se volete informazioni su questa azienda dove sono entrato volete venire a giocare con noi volete giocare facciarmi con voi facciamo tutte le cose che carina alla fine adesso io sono entrato ieri quindi devo un po' abbientarmi anch'io però venite dai giochiamo insieme tanto come giochiamo nelle altre mappe possiamo giocare anche qui e ci divertiamo insieme poi dopo ho detto ho sentito ho sentito non sentito non credo che l'avete sentita comunque c'era una persona intanto parlavo con lei anche per quello che stavo un po' zitto intanto che ne giocavo quindi dopo così vi spiega anche bene come fare cosa installare cosa non installare per mettere a posto e perché si rispetta con questo io vi saluto mettete un mi piace mi raccomando e ci vediamo alla prossima live ciao ragazzoli no non ti sceltono